Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video eccoci qua ragazzi con il secondo video del tour secondo anniversario di Mario Cartur ovviamente e dopo la buona riuscita del primo video dove ci è andato abbastanza bene oggi tenteremo di sparare un altro tubo sperando di trovare secondo noi drago dicevi il tubo dorato esatto, sperando di trovare altri personaggi che ci mancano costa si diciamo che le probabilità di scuro saranno minori però noi ci speriamo comunque crociate le dita incrociamo le dita esatto e poi andremo a fare nuovi trofei penso due massimo tre vediamo poi quanto come si a seconda di della durata del video esatto cioè noi abbiamo pensato o due coppe nuove e una terza nuova e la facciamo a metà come se l'ha fatto nel video di ieri o se no due coppe nuove e intanto proviamo anche a migliorare la classifica perché noi ieri nel video eravamo secondi poi secondo noi molto ovviamente ci hanno superato però li siamo scesi perché nel primo giorno non abbiamo giocato è appunto quindi o miglioriamo anche la classifica ora vediamo a seconda anche di come andrà il video di come andrà il tubo soprattutto quindi vediamo ecco esatto bene ragazzi quindi bando alle ciance direi di iniziare con il gameplay bene ragazzi eccoci appunto tornati con il gameplay così a primo impatto abbiamo visto che siamo quarti vogliamo già guardare i risultati vai guardiamolo di quanto siamo quarti cioè non i risultati scusate infatti i punteggi 40.000 10.000 punti tosta mi sa che a sto giro o si dà qualche coupon che abbiamo se no è tosta sì come eravamo messi con le gare c'eravano tutti i personaggi al terzo livello no in una gara abbiamo la macchina e il deltaplano a livello 2 eh vedi anche questo è un problema e fortuna abbiamo Mario Pinguina al 3 che potrebbe un po' compensare diciamo quindi dovremmo cercare di trovare scusate guarda un attimo eh è questa questa qua ah no questa è a pagamento quindi questa non si trova per ora eh no e qua idem no c'è il timone eh il timone c'è questo anche questa qua è un gruppo primavera rigami primavera si chiamava abbiamo la rossa abbiamo si è provato a sparare un botto di volta anche questo tu non si è trovato mai no 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 che pare no qua non c'è non c'è verso migliorare questa la migliori potenziando Mario Kama sì sì è vero eh tosta sono 500 punti tosta che si fa vuoi fare subito la gara giornaliera sì vai poi dopo vediamo anche il negozio esatto vediamo la nuova coppa che si è sbloccata poi spareremo anche il tubo ovviamente sì quindi sì la nostra idea è questa più che altro vediamo questo è il trofeo di easy Mario Baseball non ci sa non ci sa no 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 che poi se ci riusciamo volevamo fare lo sparo da 45 rubini del tubo quello che si è fatto ieri quindi del tour cioè sì scusatemi del tubo anniversario 1 e se ci avanzavano anche qualche rubino volevamo sparare quell'altro tubo che avevano aggiunto però non mi ricordo come si chiama se te lo ricordi come si chiama tubo urbano tubo urbano che quello invece di avere 100 spari ne potete fare 50 però lì è più difficile secondo me perché non c'è nessuno non c'è né macchine né deltaplani né piloti né evidenza quindi sarà sarà difficile trovare qualcosa di buono però ci si prova non c'è nessun personaggio di evidenza no la frenesia che cazzo no ma che frenesia eh semmai solo con scheropose ci è capitato il personaggio non ci sa che frenesia è stato assurdo cioè dovevate vedere le nostre facce eravamo sempre oddio no ma che dici tutto il tempo così è stato duro vero ok questa tromba la usa alla fine al traguardo non voglio che mi lo fanno vai resta tranquilla gara molto easy si tranquilla peccato perché con lui si poteva fare più punti speriamo che comunque abbiamo un personaggio a livello 3 tra l'altro al 98,9 tra un po' arriviamo al 60 ci sono 35 rubini esatto ah siamo 60 rubini guarda il fortuna per 79 punti preciso ora si spara il tuo vicino si vabbè verde si fa insieme vai 3,2,1 via rubini non aspetto niente di che va benissimo oh bella vai molto probabilmente appunto grazie a questi rubini faremo anche qualche sparo in più quindi bella si ci prendiamo regalini regalini del tour ok oh tra 29 stelle si prende il cupadorato e altri ovviamente il personaggio è rarissimo si solo con un goal pass 4 cupano stella e abilità veicolo comune si comune vai guarda un po' si è sbloccata il tuo fai Ludwig ok c'è anche lui perfetto ciao tu vicino spara se tu vado a sparare vai lo spara io si vai mi aspetto nulla meglio che ci sono tutti questi tubi almeno anche se sono verdi ma preferisco perché almeno abbiamo probabilità di trovare il deraso da 45 ma io trovo super quando c'era vabbè bella è quello che c'era nel negozio delle medaglie nel tour scorso quindi è quasi a livello anche 3 non male quasi 4 sì quasi 4 scusami vediamo un po' vai giù guarda se c'è qualcosa di interessante qua non si può comprare 9 no abbiamo solo 9 con 9 non pede eh c'è da rifare qualche gara la selezione del giorno prendiamo i coupon si vai la selezione del giorno è sempre un po' povera non c'è grandi cose esatto poi le bisogna tenere le monete perché abbiamo visto il negozio delle reghe è bello polposo si esatto c'è qua con chi cong abilità rarissima macchina abilità rarissima pilota io punterai subito al pilota si subito poi basta non ho qualche interessante poi non ci compro i rubini non si prendono vai vai a sparare il tuo subito a bomba ma si presto in giro l'aprite ieri l'aperto io ma no oddio allora prevedo una schifezza questo? ma io riproverei questo secondo me è verde secondo te? probabile vado se è verde però è abbastanza sfida eh ma no non è abbastanza si che dici? no io ho l'anza che dici? devo farlo io veramente no spero sarei fatto in serie è vero 3 2 1 via oh mamma c'ho già l'ansia vabbè se iniziamo con una macchina del c***one sì sì del tablano pistone ighi ighi c'era anche ieri che hanno dato a livello 3 posti già 3 spari chi è sta roba? parasole di carta viola non so se questo è del tablano ora tanto si vede alla fine però appunto non sappiamo se è del tour 5 a cupa ma un tubo come ieri ci si sogna allora se è di planorosa 6 questo è raro che è di planorosa 6 e che è di planorosa 6 e che è di planorosa 6 ok ne manca uno o due cosa di meglio sinceramente però vi dirò visto che volevamo comprare tante cose nel negozio delle lega anche queste 5 mila monete ci fa ci possono servire benissimo vabbè ultimo ok mi sa che qui niente piloti vabbè non è andato infatti infatti pensavo peggio anch'io ti dirò mamma mia 5 mila monete vediamo questo un po' dove si potrebbe usare Tokyo Tokyo Parigi e Sydney forse quindi era qualcosa che aveva a che fare con il fungo e c'è anche il fungo quindi non è malissimo è male vabbè vi dirò niente personaggi ma non è andato così male come pensavo si prova a fare questo qualche sparo abbiamo 20 abbiamo 20? io ho due ne parlo i problemi vabbè provano i due ci teniamo 10 rubini tanto tra un pochino si va a livello 60 quindi altri 5 ce li prendiamo vabbè se ne fanno a testa si vediamo giusto per provare sai magari con la volta di fortuna bene non è il mio caso vai delle volte ci sono anche quando fate questi spari singoli trovate anche il tubo blef ovviamente anche verde tubo verde con personaggi rarissimi quindi noi ogni tanto si prova no un altro sugo io trovo sempre i sugo va bene i rari ora sempre avrei da ritire vabbè ma ultimamente quando mi vado a sparare con il tubo verde io direi basta no per ora basta si non vedo da risparare anche il tubo della vittoria anch'io ok che si fa qua e direi di di completare finisco questo va bene vediamo un po' perfetto sono a 500 punti siamo esattati la macchina di poser questo perfetto a 200 ovviamente si fa il pilota del tablano sono di livello 1 e non hanno tipo zero punti come pochissimi infatti si parte solo con 1295 almeno ce l'abbiamo ma di niente almeno per le frenesie è appunto a questo nuovo che caso ok no sto c'è la banana me la prendo no ecco mi lasso stupido li va addosso beh almeno secondo vai un buon uccello per il primo benissimo ok ma per ora dai a parte sono passato secondo no ok fa anche qua un buon barile pensavo a tirare lento un pochino mamma ma che dici non me l'aspettavo ragazzi bene 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 vedi delle volte anche con i personaggi con i punti non mi ha dire mai vai vai post 10.000 punti ci sono dovrebbe essere quasi quasi 11.000 se era 11.000 la monta stella scrive davvero qui si arriva al 60 5 urbini ok a posto ok è onestissimo ok è onesto si promenade di parigi 2 qui si prende boser a livello no boser a livello 2 si 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 macchina a livello 3 e qui sta a livello 7 perfetto posto assurdo che abbiamo trovato comunque la macchinina maccheraccia non c'era mai capitato di trovare un veicolo un deltaplano che avevo già maxato perché ovviamente ne abbiamo solo due maxati quindi è raro che capiti hai pensato dove cavolo? no non ho capito vabbè bella ok era una scorciatoia scorciatoia si ma l'ho presa a caso si no dicevo si assurdo io pensavo i doppiani trovarli molto più in là invece si è già trovato il primo solo con due cose maxate quindi assurdo ovviamente essendo rarissimo vi danno un botto di monese quindi vi dirò non è andata malissimo no infatti anch'io ovviamente come aveva detto lui preferivo qualcosa di nuovo però anche 5.000 monete ci fanno strameca povedo l'indicazione delle leghe secondo me è qualcosa che si può già comprare tra un po' si si compra subito l'abilità più lavata anche se si rimane con 0 rito si si tanto si rifanno poi mettano sempre due volte a settimana all'evento pioggia di monete abbiamo anche due coupon no tre ne abbiamo di coupon corso all'oro ora te tre quindi insomma insomma i modi di fare le monete si trovano e poi noi cerchiamo sempre di gareggiare fino al limite massimo delle monete perché come vi si diceva se avete il goal pass bene se avete il goal pass il limite massimo di monete che potete fare al giorno sono 600 se non l'avete 300 noi cerchiamo sempre di arrivare al limite almeno ci si basta 100 monete easy abbiamo fatto un tris di questa ok un tris anche questa anche quella non l'avevo vista ok perfetto appunto anche qua altre monete sono pochine però appena finisci altri 5 rubini alle sfide d'ora si ok regali del tour 300 monete è un'abilità pilota comune ok alla prossima ci si può anche altri rubini la fai te ah già piaciò da farla prova a tempo con baby mario ma c'è la buzzina io c'ho fatto caso l'altra volta per caso che ha tipo le braccia così sopra la buzzina è l'uno mi fa tenerezza che devi fare questo il tempo migliore ok sì sulle piste ai silvi mamma ste piste però fino a questo finito ma questa canzone anche nel tour scorso boia c'è entrata in testa un botto io quasi quasi utilizzo quasi a parte c'è gente c'è questi cerco di prendere tutti questi sì sì bello sono bello ma se ti ci ritrovo però io non lo vedi ora vedi femminile il trucicolo stozo è perché mi viene da girarmi verso la telecamera ovviamente eh lo so però io non vedo niente allora le proprie a tempo ma che dire delle proprie a tempo ma io l'ho usato non c'è competizione poi vi dirò l'abbiamo praticamente sempre fatta al primo tentativo sì sono abbastanza semplici no esatto mi pare queste non le abbiamo mai fatte no l'ho usato ma chi ti ha detto di usare vabbè ok 3572 un minuto dice troppo no potrebbe andare sì era una battuta di 10 secondi onestissima questo sì tutto con ma questo è completato vediamo i dettagli ma tanto è 4 euro pagamento anche questo è un po' che c'è sta macchinina io vai trofeo la Kitu la Kitu vediamo un po' che si fa ah bello Yoshi adoro qua prendo la macchinina a livello 3 sì vai no volevo fuggiarlo ecco 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 ricordami che se poi si dovesse fare la classifica avrò messo a 150 sì ricordiamocelo io proverei a questo punto visto che siamo quarti vi proverei a fare la classifica tentativo siamo messi comunque sempre malaccio cioè nel senso non abbiamo trovato niente inerente a quella classifica non di bo questo è strano questi percorsi io ho visto di Vancouver sì però sono bellini come ti dicevo ieri mi ricorda tipo un po' lo stile natalizio io fra l'altro non vedo l'ora di vedere il tour di Natale cioè ci mancano ci mancano tutti quelli di Natale sì ovviamente ovvio perché ovviamente non l'abbiamo mai giocato no ripetono avevo pensato che con quello che era lo scatto mi ha fatto andare troppo veloce che c***o ovviamente non ho giù un coupon tanto no ma che coupon poi serve un po' legale eh appunto tanto e spalle con queste curve strane obliquue sì sono strane è vero eh comunque appunto dicevo non vedo la di vedere quello lì in Natalizio e anche quello di Halloween vi dirò eh sì secondo me è vero a breve forse dopo questo metteranno quello di Halloween un po' in ritardo noi non abbiamo no che ritardo siamo a 7 non è che dio allora tra un po' lo metteranno noi tra l'altro non abbiamo neanche visto quello di Pasqua perché ha iniziato a giocare poco dopo Pasqua sì è vero hai visto che sfiga infatti ma che cove hai visto che sfiga ok che bisogna fare usa il fulmine se mi capita usa un coupon per aumentare il livello scatto 5 volte con l'ultra mini turbo usando un pilota con gli orecchini si usa questo aspetta parte già è vero però aumentare il livello sapete chi è la macchina doppione c'è lei poi questa cosa se la vinci se la vinci si e poi vabbè questo c'è la gente parlava non vedo giapponese ciao anzi io ti amo bravo scusa e meno male allora vediamo un po' in una gara provo a partire tra gli ultimi vediamo se almeno mi capita sto fulmine no? si anche quella questa si fa ora questa ovviamente no quella ecco no no invece voglio provare inizia a fare schifo da qua a non superare niente infatti vediamo un po' ahhh ok non usare i funghi no già da sesta io non ho capito cosa è successo no è venino in questo pezzo di pista sto capendo veramente nulla vabbè 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 ci ho provato con il tuo sfigo ovviamente se mai ma ti dirò prova a riprendere il primo perchè è un po' in culo ah prima ti è ripassata la metropolitana si prima dentro si 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 vai 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 pensaci ti a riprendere il pienso di m***a ma che me ne foo troppo tardi ma che me ne foo la presa di c***o alla fine di dire ma poi la presa più stupida vabbè che è? c'è un'eri si c'è un'eri si l'ho sentito venite a prenderci no questa è la cosa che vorrei fare è fattibile questa aspetta se hai fatto un'altra sfidettura si questa la rifaccio subito almeno mi ne ho il pensiero ok altre due stelline un opposto qua ah ok ha una modalità automatica vabbè anche questa si fa molto easy regalini per noi altri 10 rubini ora si ricomincia a raccomandare e non si spende più nulla ecco ma mi servono 20 per mano ecco mia ecco facciamo le tue di monete bene mi sa che anche te verrai parecchiti la so perfetto allora ritrovo appunto come no ho sbagliato questa come vi dicevo questa che è fattibile se ci siamo più di fortuna soprattutto quello vedo oggi con queste gare ho un po' di spiga siamo in studio devo fare lì quelle della versifica non voglio scazzare non voglio partire comunque senti ma c'è quello che ha fatto più schifo di me benissimo eh vabbè intanto anche il computer la scaccia la partenza penso senti vaffan dopo tanto il fulmine non è fattibile per ora no non è di una mamma niente fulmine per te niente io non è dove stavo andando e dai mi dai dei busci qualcosa per poter recuperare ma si è passata terza eh ovviamente sta gara non ci si fa qui ci vuole una frenesia qui ci vuole eh perché è sta sfiga se non questa gara due volte davvero ma va bene anche finita di banana va bene qualunque frenesia per dimigrare no la 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 si chiama e la maiala di questa mano troppo tardi qua ha fatto più schifo di prima vabbè che pane mi hanno andato a rifare le stesse gare venti volte no ora finisco questa coppa e poi se la rifaccio dopo ora ci vuoi ripeto il tempo in questa vicine allora qua chi si prende user junior si lui è livello 2 oh è arrivato a 980 eh si e qui prendi 328 quello più alto qua abbiamo l'ombrellino che si è trovato ora ma abbiamo questo che ha più tutti quindi eh vabbè speriamo che siamo del tablano che serve insomma il colore era bellino quel violino si facciava la sua cosa ho detto non era male vai user junior su io volevo lui volevo l'ici anch'io e lui si trova a meno quanto abbiamo visto si e però sarà difficile da trovare nel personaggio eh si eccoci guarda di prenderai i fulmini vai prenderai i fulmini si ma ovviamente ma che voglio mi raro oggi ho sfiga ho tanta sfiga non ce la possiamo fare non ti do per ora ma che è questa sfiga è difficile operare in queste piste si infatti ma ti ha aiutato il buscione a riprendere qualche e che coglione posizione stavo dicendo già che sfiga poi ci metti anche terza ovviamente ma prevedo che andrà rifatta anche questa ovviamente ovviamente no che culo per 174 punti mamma mia no devo fare lo scatto perfetto di nuovo che sclero ah ok mille bonitile vai prendiamo subito l'abilità pilota rarissima danni vai ah ok vai vai se no poi ci si dimentica allora visto che siamo qua io comprerei anche i rubini vai visto che almeno si finiscano è l'ultimo compriamo le monete a randa che anche queste ci servano subito vai un altro di monete però son di meno sto giro si di solito ne mettano 10 invece a sto giro ne hanno messe solo 5 vabbè male quelle 2005 in più ci si prendono le cose all'ora questo prendo allora sì ora ne abbiamo tre da poter dare ci servono sempre per la classifica sempre perfetto scatto perfetto aiuto che ansia con paolina aiuto no mamma mia ora ora li faccio mettere tutti in fila vediamo un po' a me se è tristoso mi crea ansia non so perché oh eccoli no non sono in fila così no lui è l'ultimo ok vai su Luigi e fai un salto ok perfetto ora ci stiamo con un salto turbo quando fanno ora dimmi che forse non presi solo due no non avevo non si vedeva quell'imbecile di Mario dietro madonna non è ma rifatta si vedeva solo un pezzo Riccardo che palle madonna questo osso mi fa venire c'è proprio l'ervoso questo scatto perfetto lei tra l'altro di un york mi pare mi sa di sia vai subito sul primo personaggio con la visuale e mettevi in fila l'accelerba le vostre forno no ok tutti dietro mi dici sempre oh statemi così va benissimo fermi lì eh ora dovrai ripresi tutti oh finalmente miracolo stavano tutti e quattro raggruppati si per fortuna vai stellina completata ok perfetto riprovo a fare questa vai prova un tentativo riproviamo l'ultimo no ho sbagliato se no poi vai alla gara della classifica si si se vedo che non è fattibile si rifarà più in là non c'è problema voglio provare a non partire non c'è sto giro vediamo perché la c'ha anche il 7 se mi capitasse una bella frenesia di 7 sarei a posto sono sempre i 7 ma chi è che fa più schifo di me eh beh eh sì va bene eh sì va bene anche qui le frenesie si ha mai eh va bene ma eccola no me la sentivo a sto giro sono andato vicino allora appunti non si è messa malissimo si è messa meglio di prima sì però il problema è che qui bisogna passare di prima bisogna riuscire eh non c'è vero eh tiraglielo di aprisco no ma intanto c'hanno sempre gli oggetti per proteggersi non c'è poi è davvero corto sto percorso non ci si fa nooo la banana la banana di m***a pure no ok questa non è la tua gara questa è la terza volta che la riformi sbaglio sì terza io non ho parole prendi sto sto con quel cuore in m***a m***a muovete palle prima non si sa come sì ma non basta no per 500 punti che c***a no basta vabbè però sei arrivata prima non so neanche come hai fatto sì infatti ti dirò appunto uso un culo basta wow 10.800 comunque è fattibile sì 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 è fattibile basta una frenzia di moneta di 7 da fare ce la faccio beh allora direi di fare questo della classifica poi se abbiamo tempo ritroverò a fare staccati di c***are a due palle allora proviamo la prima vedendo la sfiga che ho oggi secondo me riesco a fare molto poco 150 esatto io me ne avevo già scordate 150 e si sprecia scusate mi viene un po' buttata la lama c'è i piedi stesi per il fatto sempre del piede quindi sono un po' messa così che mi consigli di scazzarla? si ma si proviamo vai si ma il gesto fa freddo di te ma si può vedere Mario Pinguino in un circuito di New York? si infatti vabbè già tanto ci sa anche a livello 3 si si per quello anche lui si è trovato si trova da poco e si mandò subito avanti ti ricordi? si eh ci si era prendata la sigla eh però eh qui non ci si fa no sbobbi oggi non devo giocare c'ho sfiga mi sa che i re dei fatti stegare un cerverso me ne capita di ogni no basta aspetta no 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 però ci sono già fatti io dai lo vedi? ma che oggetti sono? hai preso gli asci rosa aspetta no vabbè l'asci rosa? si eccolo l'avevi colpito con il buscio verde no si gli asci rosa di m***a amore dai ma non è che oggetti di m***a ti posso quinta ma che schifo cinque mila non lo facevo dall'avanti che chitto no non lo voglio bucare dai e riprova no sbiga troverò io ma è un piccato io l'ho già fatta queste no sbiga ma chi faccio? lui gli ha dato qualche biglietto lo faccio lo faccio lo faccio lo faccio 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 mamma mia del tacanno ne abbiamo 65 addirittura ecco io sto zitto che ha detto? vai mi spezza quanti che ne do ancora ma è l'ultima la prossima 40 arriva a 46 ok porta da 680 almeno già questi come stanno messi perfetto ok allora vedo che devo mandare c'è anche una quest quindi lo faccio subito mandare le monete si quindi questo ragazzo che ci manda sempre le monete salutiamo semmai dovesse finire il nostro video cioè semmai dovesse sappiamo neanche se tagliamo noi no però insomma un bacione a ocean blue o allora 50 monete fatte perfetto posto allora che devo fare un po che si abbina questa te l'hai preso la verdina vero questa forse questo sai però quello questo non fare meglio anche questo ma vabbè che se lo poteva vabbè almeno ora si sa ora se ho sfiga anche a questa mi hai tirato i capelli in faccia se ho sfiga anche a questa non gioco più ora anche questo voglio partire così io questo lo porterei anche un po sul tuo livello anche io aspettiamo vediamo come è un po di monete basta però c'è sarà la decima volta e scazzo una gara e continuo a partire di senza frenesie ma si può vabbè non succede sempre e lo vedo vai e lo vedo che non succede sempre si vede vai amore non c'è questo fare oggi non so come ho fatto a trovare il tuo dorato guarda vedendo la sfiga che ho boh si vai ci c'è mi sta manano amore oggi in vena di oggi si ieri non ho detto tante oggi invece mi ascomando quanti cettoni mi sono presa però oggi mi sono usciti tutti si vabbè il punteggio fa schifo al c***o era oddio questa è stra mega migliorabile allora ho fatto cacare ho fatto no io veramente mi spezzo amore cioè dai guardate quanto ho migliorato anche vabbè si è arrivata anche terza eh oh però lui è vicino eh lui è vicino si si prova questa con la roba in sette te li hai preso lui o fa anche i no 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 baby luigi però i punteggi sono un po bassi eh eh no si ma io ho i punti su un comune amore io l'ho dati a baby mario qualcuno un'altra volta anche i due gliene do su io due c'ha almeno 5 beta era 400 ma che e poi a 600 lo sblocchi ok sono sprecati perché è comuni ma è livello 6 e no poi ci sarà quella classifica quindi io lo farei scusate la gamba ops non c'è come mettermi oggi una sfiga continua tra il piede mi fa male pure il c***o oh poi qua mai una gioia con lui voglio partire invece per bene ecco ovviamente mi sa mai ma sia mai una gioia boomerang anche in fine boomerang come non so se ve l'ho già detto ma pensavano c'è questo è schifo invece non è mai c'è un oggetto è abbastanza buono perché oltre a colpire gli avversari ti prende anche tutte le monete che ci sono intorno io nella gara appunto nella vecchia classifica fece quel fiore boomerang ce l'avevo accanto tutti fece un botto di combo te l'ho detto non c'è verso e non c'è verso ci sto mettendo tutta la mia buona volontà ma elevati ma non c'è verso che riuscissi a passare prima oh non c'è verso non ci si fa ecco quello dicevo vi aiuta anche a mantenere le combo c'è una valanga di monete avete il free boomerang usate esatto la prima frenesia tra un po' mira non è proprio la prima però vedo il traguardo da prima mamma ma che è successo è migliorato finalmente questa comunque almeno 18 mila sciatari e voglia con le frenesie la fai voglia voglia ok qui si dovrebbe ritornare terzi perfetto io vogliamo provare a rifare quella di prima e una di questa quattro cilio si va comunque non di tokyo x è migliorabile non è avuto c'è si è arrivata terza migliorata da te quella stai a vedere la differenza fra me stai a vedere io ho il zero però ti capita la seconda la frenesia e sta a vedere sì sicuro immaginavo lo sapevo ma immaginavo perché anche prima ho tratto questa tattica e infatti mi è capitata la frenesia e leva quel bastardo come mai bagnato scusa ma immaginavo tantissimo ma certo ma si sapeva non c'era bisogno che tu dicevi eh no filo di p***o di p***a ma di p***a di p***a ma amore superare eh sì te lo faccio vedere io sai madonna che la palla ti ha fatto il filo La pallena Vai ciao Non so se hai visto cosa è successo Che è successo? Praticamente l'hai lanciato e l'hai migliorato comunque L'hai lanciato il fiore di ghiaccio E poi il guscio E l'hai spiantato sul tuo fiore di ghiaccio Il guscio No, non ci ho fatto caso Perché ho visto che gli era arrivata la bomba al cielo Quindi ero tutta contenta Quindi non ci ho fatto minimamente caso Piccoli miglioramenti Però ti ci voglio No, no Faccio questa Se puoi provare a farne una te Sì, farò un tentativo massimo due e basta Cioè poi se no Vediamo di migliorare la classifica Anche in altri video insieme a voi Che secondo noi la classifica è meglio migliorarla subito Perché se ve li trovate poi Agli ultimi giorni Tocca fare un impazzamento per migliorarla Esatto, perché la gente poi inizia a giocare Ma come è successo il volume? Se ti copio il volume non avrebbe un colmo Eh, non c'è la musica comunque Ma come mai? Secondo me è toccato qualcosa alle impostazioni No Ma come è possibile stavo parlando? Vabbè Ora Mistero della fine Giociamo così in questa gara Poi rivediamo subito cosa è successo Sì, infatti Se me è qualcosa delle impostazioni No, ora voglio rivedere nell'editing cosa ho pigiato Perché io ero così e parlavo Io ero ora No No E che palle Non mi riesce a posare prima qui Ma la posso provare io? No No Cattivo Ora ho un cupone a caso così Perché mi vado di usarlo Ma no, non hai poso neanche una fede Lo so, sto scherzando Questo con questa banana dietro mi ha rotto c***e Mamma mia che tristezza il gioco Senza musica fa schifo È bruttissimo Infatti non sentivo la musica Comunque sia mai che abbia frenesia di set con lei Questa cosa è scantata Ma c'è che con lei compaiono Eh, compaiono Non ora però Settimila sei, mamma mia Ho fatto ancora più schifo di prima Ma sei arrivata quarta, sbobba No, ora questo è il mio tarlo di oggi Fino a che non la miglioro Io non smetto di fare il video qua Sto qua fino a domani Posso vedere Eh, sì, infatti Che ho pigiato ora Ho rilevato la musica Ma la musica c'è Guarda Io non ho toccato niente Scusami Non c'è nulla Adora non si sa cosa è successo Bene, è impazzito anche il telefono A forza di sentirmi sclerare Secondo me è impazzito Sì Riproviamo Riproviamo Allora funziona tutto Allora funziona Sì No, non ci sono i suoni Non si sa cosa sia successo Ma a questo gioco ogni giorno C'è una sorpresa nuova Comunque Sì Sia mai Sia mai Sia mai Ma Che brutto senza musica Che tristezza, no? Mi piace molto Eh, sì, è abbastanza È strano Molto Ma finisco Mi raccomando, su questo salto Stai sulla destra Sì Miracolo di dirio Però nessuno mi rompe più il c***o La frenesia di monete No, quello che ha l'ho provato Papo ti stai zitto che te sei più gufo di il si sa che cosa Mi piace di aiutarmi Oh No, prima te l'ha chiamata la frenesia di arrivare Sì, perché ho fatto la tattichina Se aspetto di partire ultima qui buonanotte Tanto da ultima non mi arriva, l'ho bello e capito Quindi parto e chi se ne frega Sì Fredore è l'unico modo che per migliorare E migliore è quel Eccola, alla fine Non basta No, basta, mi tiro Mi sono rotta le palle Poi c'è più la musica Ma che è successo ora? Se me è un problema di questa gara Se sei rifiutato anche la gara Ha detto basta Prova a farne un'altra di queste Guarda se funziona Prova a me ne ha detto anche le X Vai Mi spezza Mario, a calma Vai amore No, è 200 È 200 Madonna miseria, madonna è 200 Eh, vabbè Chissime se trova Vediamo se qua va No, non va Non si sa cosa sia successo ragazzi Ma se non lo dà sti problemi, sto gioco Stato della musica è pazzesco Sarebbe da fare un reclamo Sì Perché se Mi pareva che non avessi giocato nulla No, non stavo parlando Non ho detto un c***o di fatto Dicevo Va a f***o che è succeda sempre qualcosa a questo gioco No, non mi diverte neanche sinceramente giocare senza musichetta Tanto per fortuna eravamo arrivati praticamente alla fine del video Però Che amarezza Ah sì, che tristezza veramente Senza musichina fa un po' tristezza Già finita? Sì Molto però un po' 10.000 Un grado di poco Senza frenesia ovviamente 200 cg addirittura Poi sono corte Questa è corta corta Sì Quindi qui secondo me si fa poco Wow Tanto si rimane sempre terzi Ragazzi Voi mi sa che ci vediamo direttamente Sì Direttamente Direttamente Due volte Ho detto Ci vediamo direttamente con le conclusioni finale Perché anche il gioco ha deciso di abbandonarci Secondo me non ci sopporta Sì Anche il gioco Poverino Non si capisce cosa sia successo alla musica Quando Come potete vedere Le impostazioni La musica è attiva Così sarebbe spenta E così attiva Quindi non capisco Quindi nulla Ci vediamo alle conclusioni finali Esatto Ci vediamo nelle conclusioni finali A dopo Eccoci qua con le conclusioni del video Abbiamo sparato questo tubo Era dorato Ci abbiamo trovato Due deltaplani No scherzavo Un deltaplano e una macchinina doppiona Però quindi 5.000 monete Sono guardata solo per quello Sì Poi vabbè per il resto Vabbè l'el deltaplano non ci sapeva Diciamo che Se dovevamo trovare doppioni in questo tour Meglio sia capitato ora Perché appunto Dobbiamo comprare un botto di cose Nel negozio delle leghe E queste 5.000 monete ci servivano Sì Quindi una mano al cielo Se proprio vogliamo dirla così Sì Un lato positivo c'è Poi Non si sa Vogliamo parlare delle sfighe nella gara Mamma mia Io non ho avuto tante sfighe Io non commento Che ho già commentato Mentre stavo giocando Quindi forse Ma io sono stossita No vabbè Comunque Non si sa alla fine Poi cosa è successo Con questo discorso del volume No Completamente impazzito Casomai ora Non lo so Proveremo anche a riaprire L'applicazione a caso Per vedere cosa è successo Perché non si capisce Sì Ora vedremo anche Durante l'editing Ma non penso Ci siano stati problemi Non credo Che abbia pigiato niente No Non credo Era così che parlavo Avevo il telefono in mano Così quindi Fare strano Che abbia pigiato qualcosa Ma non credo Vedremo poi Sì 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 Infatti Vediamo E niente Commentate un po' Questo video Fateci sapere Se anche a voi Magari è mai successo Che l'app Impazzisse così dal nulla Inizia a salvare la musica Così senza un domani A me è prima volta Non ce l'ha mai capitato No Non ce l'ha mai capitato Quindi non si sa Veramente Non si sa cosa è successo C'è da dire che in questo gioco C'è sempre qualche problema Ogni giorno Tra gli aggiornamenti E quello E problemi vari Sbagliano a scrivere le cose Quindi ora ci mancava Anche la musica E salta da sola Sì infatti Se ci fate caso C'è sempre la sezione Notizia e problemi Risorti C'è sempre un problema Questo gioco di p***a Io veramente Non ho parole Vabbè Però ci piace tanto Quindi Siamo pazzi anche noi A quanto pare Vabbè Quindi niente ragazzi Insomma Speriamo che A parte la sfiga Come sempre presente Nei nostri video Speriamo appunto Il video vi sia piaciuto Vi abbia tenuto Come sempre in compagnia Scusate sempre Per i video chilometrici Che facciamo Però Essendo un gameplay Ci scoccia Fare i video da 15 minuti Perché non si giocherebbe Quasi niente Poi anche noi Abbiamo parecchia parlantina Io soprattutto Quando inizio Non mi chiedo più Quindi Scusate per i video Se vengono chilometrici Fateci sapere Se vi posta un piacere Se ne preferite più corti Se ne preferite più corti Ovviamente cercheremo Di farli più corti Se no Buonanotte E quindi insomma Detto questo Vi invitiamo A lasciarci Un mi piace Attivare la campanellina Almeno quando Arrivano nuovi video Vi arriva subito La notifica Iscrivervi al canale E lasciare un commento Appunto Di supporto Di supporto Dite ciò che Più vi pare Insomma Se avete qualche Osservazione da fare Qualche consiglio Insomma Tutto ciò che volete dire Insomma I commenti sono liberi E appunto Il prossimo video Dovrà essere Sempre su Mario Kart Tour Che come vi si diceva Stiamo cercando di portare Nuovi contenuti Nel canale Soprattutto anche Altri video challenge Quindi fateci sapere Nei commenti Se avete Qualche idea Di challenge Strane Divertenti Fateci sapere Che anche noi Siamo un po' Alla ricerca E volevo portare Poi anche altri contenuti Quindi vediamo Ecco Per ora abbiamo Questa challenge Divertenti Strane Un po' Poi vediamo Qui là magari Challenge che dovrebbero Portare il sorriso Sì esatto Un tortenimento Sì 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 Esatto Quindi ragazzi Stay tuned E ci vediamo Nel prossimo video Sì Ciao Ciao Sono fascio di glitter oggi La lucina amore Ho putterly Poverina C'è che scar Guarda quante tacchine C'è Guarda c'è che differenza Con ho putterly Ciao a tutti ragazzi E benvenuti Hai urlato troppo Secondo me Dici Sono euforica oggi Non lo so Sono contenta Ciao a tutti ragazzi E benvenuti In questo nuovo video No allora Io ho parlato più piano Te eri piano Con la voce E poi l'hai restata Alla fine Adesso che fa Eh Siamo impazziti oggi Vai Io Oh La sento Vai vediamo cosa dice Il fetusiello Vai Come si iniziamo Quindi con il game No Vabbè qui si scrive La sopra Ci sei scaricata La ring light Si vede comunque Poverino Si vede che manca la luce Che parla Bene ragazzi Allora Appunto io direi di andare Proprio al succo Quindi il gameplay No Aspetta No Non le dico Al succo Che vuol dire Si il succo Il zuccuro Il zuccuro Allora Vado Buono Ci metterò il guscio blu Come censura Ci metterò Ci metterò Io Vabbè Perché le farie di te Edito io Siete Che c***o fare Che non si vuole Neanche a fare il c***o Come Che Anche in vela di tv Eh Cioè oggi Eri incazzata Sbobbo Ma che Che gare di m***a Brutte sono Eh Che ci puoi fare Sfiglia Regare così non mi piacciono Riff 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 Intanto lo faccio io Lei Quindi ci impazzirò io Nante Stonzo Ah Sono stato Sporcato Riff Vabbè Vai Fanno stacca Ma che c***o mi ha spoccato il rossetto No no Si si vede Guardate Si vede ancora No si Dai Ma te l'ho levato Perché tanto voglio Di darti i bacini Ma non posso Guarda Mi metterò sempre il rossetto A meno non mi rompi più il c***o Ah Però te voglio Di darmi i bacini Sì Perché non posso L'ho perdita I suci pazza E in c***o Sto scherzando Ovviamente Vai Aspetta che sono troppo Putta Ah Già stupiere Eccoci qua Allora 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 Vi sto la mano Andando a rire Speriamo che Speriamo che appunto Invitiamo Appunto Come dice Amore Che hai fatto Si va della campanellina Me lo fa Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr E qui suona la campanella Almeno Quando arrivo Ma che sto dicendo Sono infazzita Bazzita Se sto saldendo Ovviamente Dai Una maglietta No Una magliettura Anche carina